Ansa, città del Vaticano, 28, cresce il numero dei cattolici nel mondo. Sono quasi un miliardo e 300 milioni, il 17,7% della popolazione mondiale. Secondo le cifre tratte dall'annuario statistico della Chiesa Cattolica, dati relativi al 2015, ed elaborate dall'Agenzia Fides, i battezzati sono 12 milioni, e mezzo in più rispetto all'anno precedente, il 2014. È uno dei dati contenuti nel dossier diffuso in occasione della 91 maggiornata missionaria mondiale, che si celebra domenica 22 ottobre 2017. Secondo i dati, in Africa vivono 1 miliardo, e 100 mila persone, il 19,42% sono cattolici, 222 milioni, con un aumento dello 0,12%. In America, su 982 e 2 milioni abitanti il 63,6% è cattolico, 625 milioni, con una diminuzione dello 0,08%. In Asia su 4 e 3 miliardi persone cattolici sono il 3 e 24% della popolazione. 141 milioni, cifra stabile. In Europa cresce la popolazione, 716 milioni, ma, per il secondo anno di fila, diminuisce il numero dei cattolici, che sono il 39,87%, 285 milioni, meno 0,21%.